Grazie a tutti. E' abituato alle persone che tende ad assaltare, cioè a farsi alizzante per cercare il cibo. Bene, bravo, questo riempitivo è quello che vuol dire. Lo scalda pubblico. Lo scalda pubblico, ci avrebbe qualcun altro con lo scalda pubblico, ma comunque... Inizio? Sì, dai, con inizio. Ok, grazie. Allora, grazie a tutti per essere ritornati dopo la pausa caffè. Parliamo della Nutria, una delle specie appunto nella direttiva europea, come vedete da questa mappa, origine sudamericana. è stata importata in Europa e anche negli altri continenti sostanzialmente per un interesse economico legato all'utilizzo della pelliccia. Successivamente gli animali sono stati rilasciati o sono fuggiti, hanno dato origine a popolazioni naturalizzate in Nord America, Europa, Asia e anche un po' in Africa. Gli impatti conosciuti riguardano soprattutto i danni alle colture, l'impatto è un erbivoro, quindi l'impatto sulla vegetazione acquatica, attività di scavo per lo scavo appunto delle tanniche che mette a rischio le arginature e la distruzione dei nidi degli uccelli. A questo proposito in passato si pensava che la Nutria mangiasse le uova, abbiamo fatto alcuni lavori con la fototrappola e si è visto almeno in base alla nostra documentazione che le uova non sono ricercate per uso alimentare ma sono i nidi che sono ricercati come piattaforme galleggianti e la Nutria le usa come luogo di sosta e ovviamente appoggiandosi come vedete su queste foto sui nidi e sulle uova distrugge le uova e affonda i nidi. Questi dati ormai sono vecchi, risalgono al 2000 e al 2000 sono passati quasi 20 anni, comunque allora con Isfra abbiamo fatto un lavoro di raccolta delle informazioni sul controllo della specie a livello locale, a livello nazionale e si vede come i costi totali nell'anno 2000 erano 4 milioni di euro e questo permette di fare un commento, cioè che in questo caso un'attività economica privata finché è stata redditizia ha portato guadagni ai privati, quando non è più stata redditizia ha portato di costi a carico della comunità e non mi riferisco solo a costi economici ma in generale tutti gli aspetti legati alla gestione di una delle specie che sicuramente è diventata problematica a livello nazionale anche per la sua ampia diffusione. Come dicevo prima fa parte della lista delle prime specie inserite di interesse unionale, per questo Isfra e il Ministero dell'Ambiente stanno predisponendo un piano di gestione nazionale seguita da Roberto Cocchi per quanto riguarda Isfra e il regolamento prevede per le specie ampiamente diffuse comunque l'implementazione di misure di gestione efficaci basate anche su un'analisi dei costi e dei benefici. Vedete qua la distribuzione della specie a livello italiano come l'abbiamo ricostruita con diverse fonti di dati oramai la specie distribuita senza soluzione di continuità nella valle del Po e lungo la costa adriattica fino all'Abruzzo lungo la costa tirrenica dalla Liguria alla Campania mentre invece è anche ampiamente diffusa in Sardegna e Sicilia in alcune regioni del sud e ancora localizzate, i nuclei sono isolati e frammentati. In molte province del centro e del nord Italia sono stati approvati dei piani di controllo in base alla recente normativa e quindi si presume che ci siano attività di controllo che vengono rendicontate. Le altre regioni azzure indicano dove la specie è presente ma al momento non sono attivati i piani di controllo. Il piano prevede quattro opzioni perché ovviamente si tratta di una specie ampiamente diffusa quindi non si parla di eradicazione ma si parla di una gestione in qualche modo sostenibile che prevede quattro tipi di attività. Ricordo che c'è un obbligo imposto dal regolamento ad intervenire e quindi abbiamo previsto per le varie regioni delle possibilità gestionali che vanno dall'eradicazione ovviamente se si tratta di nuclei isolati in cui è ancora possibile intervenire in questo senso gestione a densità zero, cioè gestione ripetuta nel tempo finalizzata a mantenere una densità bassissima contenimento spaziale o controllo finalizzato a ridurre gli impatti. L'eradicazione locale è possibile in Italia soltanto in alcuni casi dove ci sono ancora delle popolazioni isolate, sono operazioni spesso complesse anche impegnative sia come risorse umane che risorse economiche però ricordo che in Inghilterra la nutre è stata eradicata da un'ampia superficie e l'eradicazione quando ha successo implica la rimozione completa della specie dall'area geografica di riferimento e quindi la risoluzione del problema gestionale che si doveva affrontare. In Italia si è persa l'occasione in passato quando gli animali venivano rilasciati per prevedere la loro rimozione e questo ha portato a una diffusione della specie su ampie superfici dove oramai occorre in genere prevedere altri tipi di gestione. Ricordo anche che l'eradicazione in Inghilterra è stata possibile grazie a uno sforzo concentrato nel tempo ma impegnativo, erano state impiegate se non erano 18-20 persone a tempo pieno quindi se si vuole implementare un'azione di questo tipo deve essere pianificata attentamente e devono essere messe a disposizione le risorse adeguate altrimenti il progetto si trasforma in un controllo a lungo termine che tra l'altro nel tempo implica una rimozione e soppressione di un numero decisamente maggiore di animali. La gestione a densità prossima allo zeno si ha quando o l'eradicazione non viene raggiunta o occorre intervenire in zone di contatto tra aree a popolazione diffusa e aree dove è stata fatta una eradicazione. Ad esempio, questa è una situazione ipotetica, abbiamo una zona areale continua abbiamo una zona dove si pensa di poter rimuovere completamente la specie ma sappiamo che c'è ad esempio un bacino idrografico che consente la dispersione degli animali dall'areale continuo alla zona di eradicazione se in quella zona effettivamente la nutria viene rimossa completamente sarà comunque necessario intervenire nella zona, nel bacino dove è possibile la dispersione mantenendo attraverso controlli continui una densità vicina allo zero proprio per salvaguardare la zona dove la specie è stata rimossa. Il contenimento spaziale è in pratica una subcategoria del caso precedente quando bisogna impedire la ricononizzazione di zone dove è stata fatta la gestione oppure il regolamento pone un particolare accento alla necessità di impedire la dispersione della specie nei confronti verso paesi confinanti quindi c'è proprio un obbligo per le province e le regioni confinanti con altri paesi di intervenire con un contenimento spaziale di questo tipo. Il controllo demografico implica semplicemente abbassare la densità di popolazioni ampiamente diffuse e ovviamente un intervento di questo tipo ha un senso solo se finalizzato a ridurre un impatto e in particolare un impatto di diverso tipo devono comunque essere quantificati e occorre dimostrare che il controllo demografico ha una sua efficacia. Questi sono i dati che avevamo raccolto appunto a suo tempo che dimostrano come quantomeno a livello nazionale, poi ci sono situazioni locali dove invece il controllo è risultato efficace c'era una inefficacia del controllo demografico perché se guardate l'andamento negli anni dei danni e delle nutri abbattute c'era una correlazione positiva. Questo chiaramente dimostra che a livello nazionale il controllo non era adeguato a ridurre la demografia della specie che comunque ha continuato ad aumentare e di conseguenza sono aumentati i danni. Quindi a fronte di un grafico di questo tipo, che ripeto qui era riferito alla situazione nazionale non a un distretto più piccolo, si può dire che il controllo è inutile e quindi in una situazione di questo genere la gestione deve essere rivista completamente. Quindi nel piano sono indicati degli indici di efficacia, cioè se si vuole fare un controllo demografico occorre dimostrare che quel controllo è efficace, altrimenti il controllo è inutile, è inutile farlo e quindi l'indice di efficacia può essere verificata rilevando dei dati, cosa che devo dire spesso non viene fatta perché poi i dati di questo tipo non sono granché disponibili in letteratura o se viene fatta non sono resi disponibili alla comunità scientifica, rimangono in un cassetto. Indici di efficacia che possono riguardare sia la specie oggetto dell'intervento, la nutria, sia invece il danno ecologico-economico che si vuole ridurre controllando la popolazione di nutria. Ad esempio uno dei metodi per misurare l'efficacia è quello di dimostrare che effettivamente la specie viene mantenuta a bassa densità. In questo caso ci si riferisce a delle zone umide del Piemonte dove la specie stava colonizzando delle aree provenienti da Oriente e vedete che in questi casi degli interventi anche tutto sommato piuttosto limitati hanno mantenuto in blu delle densità molto basse rispetto a quelle che invece sono note per la letteratura. In quest'altro caso l'indice di efficacia era lo sviluppo della vegetazione. Sempre nelle aree precedenti vedete come in viola a sinistra era stato misurato lo sviluppo del nanufro come indice di sviluppo della vegetazione acquatica. In seguito all'arrivo della nutria in questi tre stagni, nel primo stagno il nanufro non si sviluppava più del tutto, nel secondo c'era stata una riduzione, nel terzo una riduzione dell'80% della superficie coperta da questa pianta acquatica. A seguito della riduzione della specie, appunto nelle prime fasi di colonizzazione, il nanufro ha ricolonizzato gli stagni raggiungendo una situazione paragonabile a quella prima dell'arrivo della nutria. Quindi dati di questo tipo dimostrano che il controllo è efficace se l'obiettivo era quello di tutelare come in questo caso lo sviluppo della vegetazione acquatica in aree di ripristino ambientale. Oppure se il motivo è quello di ridurre i danni alle attività agricole occorre dimostrare che nel tempo i danni diminuiscono, altrimenti la gestione non funziona e ovviamente occorre prendere in considerazione delle misure alternative, magari aumentare l'intensità del controllo oppure ripensare le tecniche utilizzate, in questo caso sono sempre danni del Piemonte, vedete che i danni economici compensati alle colture agricole sono aumentati fino all'anno 2000 e successivamente sono diminuiti grazie a un aumento del controllo, dal 2000 al 2002 il controllo è aumentato decisamente e poi è aumentato ulteriormente. Questo è importante perché spesso nelle attività di controllo quando si raggiungono i primi risultati la tendenza è quello di diminuire l'intensità dell'azione vanificando completamente ciò che era stato fatto precedentemente. Quindi gli obiettivi che sono obiettivi regionali del piano di gestione nazionale sono stati valutati in base alla distribuzione della nutria, alla continuità spaziale delle popolazioni e anche gli obiettivi gestionali che le stesse regioni si erano date. In una fase iniziale Ispra, soprattutto grazie al lavoro di Roberto, ha contattato tutte le regioni e altri uffici preposti alla gestione della nutria, vi assicuro è stato un lavoro molto lungo, chiedendo alle regioni qual era la loro percezione dell'impatto che la nutria aveva, quindi semplicemente una valutazione da 1 a 10, alcuni hanno fornito anche dei dati, altri no. Vedete che per alcune regioni del centro e del nord Italia, si vede poco, comunque sul rosso c'è la Lombardia, in effetti c'è una percezione di un impatto importante e quindi se la regione ha una percezione di un impatto importante vuol dire che quella regione in qualche modo si deve impegnare o si è già impegnata a intervenire di conseguenza, altre regioni che non sono riportate davano una mutazione o non hanno risposto o davano una mutazione di una presenza del tutto trascurabile. Quindi le regioni stesse hanno già una percezione di quale sia il problema legato alla nutria, all'interno del piano abbiamo semplicemente cercato di formalizzare questa loro percezione del problema dando delle indicazioni che vedete qui sintetizzate. Ovviamente a ogni regione è richiesto il monitoraggio perché questo è un obbligo legato al regolamento, quindi anche in Val d'Aosta la specie non è presente ma potrebbe arrivare in futuro e quindi c'è in qualche modo la necessità di prevedere un monitoraggio ovviamente non solo della nutria ma anche delle altre specie all'interno del regolamento. Attività di eradicazione sono previste localmente anche in regioni dove la specie è ancora, è già diffusa ma dove è possibile magari prevedere come in Lombardia degli interventi puntiformi di popolazione ancora tutto sommato localizzate. Vedete ancora altre attività o finalizzate a densità zero o contenimento spaziale. Il contenimento spaziale riguardano anche tutte le regioni che si trovano al confine. È ovvio che dal Piemonte ben difficilmente la nutria potrà passare in Francia dove peraltro è già presente in diffusa perché difficilmente riuscirà a scavalcare i valichi alpini o appenninici anche se potrebbe passare a sud attraverso la Liguria però comunque l'indicazione viene data fatta attenzione alla dispersione verso i paesi confinanti. Contenimento demografico soprattutto dove le regioni già indicavano la necessità di questo tipo di intervento perché consideravano presenza di danni o economici o ecologici importanti. La risposta rapida in quasi tutte le regioni soprattutto dove in parte delle regioni la specie non è ancora presente e la risposta rapida è particolarmente importante perché in regioni dove la specie non è presente o è localizzata se si riesce a impedire la colonizzazione di nuove aree spesso rimuovendo pochi animali si risolve localmente il problema e si evitano successivamente interventi più costosi che implicano anche la soppressione di molti animali. E di nuovo legato al monitoraggio l'aggiornamento della distribuzione e poi qui non è indicato ma comunque la necessità di conferire a ISPRA annualmente i dati di animali rimossi ma sulla distribuzione della specie rimossi e si spera anche i dati utili a valutare l'efficacia degli interventi nel medio e nel lungo termine. Quindi in generale ci sono due aree a distribuzione continua dove sono possibili generalmente solo attività di controllo tranne situazioni molto localizzate e quindi dove deve esserci una verifica periodica dei risultati e degli obiettivi. Nell'Italia e nelle regioni del sud e in alcune situazioni insulari è ancora possibile prevedere interventi di eredicazione locale o contenimento spaziale che sono molto importanti per impedire che anche in queste regioni ci sia poi in futuro una situazione simile al nord Italia dove c'è poi l'obbligo di intervenire con controlli appunto nel lungo termine. Per finire volevo ancora sottolineare la necessità di una gestione che sia realmente adattativa e che porti nel tempo a migliorare le strategie di gestione ma soprattutto che porti a misurare ciò che si sta facendo un controllo che non prevede una misura dei risultati ottenuti è un controllo inutile e quindi un dispendio di energia è anche un impatto inutile su popolazioni animali. È importante passare da un controllo finalizzato semplicemente a catturare il maggior numero di energie possibile a un controllo efficace e quindi misurato con la raccolta di informazioni adeguate e soprattutto l'elaborazione di queste informazioni e la messa a disposizione di tutti i dati che vengono raccolti in modo tale che ognuno possa valutare le esperienze degli altri e utilizzarle anche per migliorare la propria gestione. Grazie, ho finito.